Presentiamo oggi definitivamente il piano di transizione ecologica della città di Civitavecchia e del suo territorio. Un percorso iniziato un anno fa, abbiamo svolto anche un'attività di consultazione del territorio, ovviamente perché pianificare il futuro bisogna farlo attraverso i protagonisti del territorio stesso e oggi finalmente presentiamo questo piano di investimenti, direi di progetti sostenibili per fare di Civitavecchia il distritto delle energie rinnovabili e non solo.